Ciao! Nel video di oggi parleremo di lavoro, parleremo di lavoro tradizionale, nello specifico del mio lavoro, di come era prima e di come purtroppo lo ritroverò post-lockdown. Io sono Francesco Venturini da SkylineTeam.org e ti do il benvenuto in questo nuovo video. Sabato pomeriggio mi chiama il mio direttore commerciale, mi fa Francesco, da lunedì ripartiamo. Ecco, questa frase è stata un po' una doccia fredda perché da più di 60 giorni era a casa, il mio mondo, io opero nel settore farmaceutico da più di 8 anni, noi ci eravamo fermati i primi di marzo e quindi di fatto sono 60 giorni che eravamo tutti fermi con punti interrogativi, con domande, con perplessità sul domani, su quello che sarebbe cambiato e accaduto nel nostro settore. Ti faccio una breve panoramica ma soprattutto vado a rifroso e ti racconto un po' la mia storia. Io ho iniziato questo lavoro all'età di 25 anni e per caso, molto per caso, trovai un'azienda di fascia C o comunque nel mondo farmaceutico, azienda, la classica azienda che lavora sulle cosiddette prescrizioni in bianco, quindi io non mi occupo di farmaco vero e proprio, quindi non ricetta rossa, per farti capire. Un'azienda che poi abbiamo contribuito a farla rencare e diventare prima azienda italiana come vendite, tre anni di una grandissima esperienza costruita quindi all'interno di quell'azienda, dopo circa tre anni abbandoniamo quell'esperienza rilanciandosi e ripartendo da zero. Quindi quando avevamo toccato l'apice in base, in virtù di tutta una serie di valutazioni che avevamo fatto e oggi ne abbiamo avuto ragione, quindi vedevamo comunque con un po' di lungimiranza diciamo una soglia, un tetto massimo oltre il quale non saremmo andati a livello di profitto, dopo tre anni ci mettiamo in proprio. Quindi lanciamo da zero un'esperienza farmaceutica, quindi sempre rimanendo sul settore della nutraceutica, fitoterapia, quindi la classica ricetta bianca che ti prescrive il tuo medico. Lanciamo un'esperienza nuova partendo da zero, partendo da zero che vuol dire che io l'ultimo anno nella vecchia azienda farmaceutica guadagnavo 6.000, 7.000 euro al mese, cioè tornare a guadagnare zero, questo voglio rimarcarlo per far capire anche poi la lungimiranza, il fatto che tante volte in una sfida nuova sì ci sono sicuramente dei nuovi stimoli, ma non tutti sono pronti per abbracciare una nuova sfida perché la stragrande maggioranza delle persone sarebbe focalizzata sul proprio tesoretto che andava sfumato, su quanto poi uno avrebbe perso, perché è facile cambiare lavoro, rilanciarsi, io vedo anche nel mondo del network quanta gente dice no guarda io vorrei passare a fare network full time perché tanto magari fanno un part time in un negozio, la commessa piuttosto che il pizzaiolo, piuttosto che il porta a porta. Difficile è fare un cambiamento sostanziale nella propria vita quando guadagni 5, 6, 7, 10.000 euro al mese per tornare soprattutto in un'incertezza colossale, quindi per ripartire da zero. Lì è difficile, cioè lì si pesa veramente la vision, l'intraprendenza e soprattutto la capacità di cogliere e di analizzare un mercato che è sempre comunque un mercato in mutazione. Quindi te la faccio breve, partiamo con questa nuova esperienza. Dopo, io nella precedente azienda sin da subito scalare le prime posizioni, quindi per diciamo due anni e mezzo confermai sempre il primato di maggiori vendite in Italia, quindi ogni mese confermavo premi, confermavo record sul record. Dopo un anno, quindi dopo un anno dal lancio della nuova esperienza lavorativa, gli sono tornato a essere il numero uno in Italia, come il numero di vendite e quindi ovviamente anche tutta una serie di benefit e profitti. Ripeto, non mi voglio autocompiacere, però ti voglio far capire che so bene, conosco bene questo mondo. Questo mondo è un mondo che come tutto, tutto è un divenire. Il problema di alcune valutazioni, anche di valutazioni che ho fatto io, perché ragazzi, adagiarsi sugli allori non è una colpa, è un meccanismo tante volte a cui siamo portati, un meccanismo anche inconscio. È chiaro che quando inizia ad avere la pancia piena, la cosiddetta fame, l'occhio della tigre, viene sempre a mancare. Questo è uno dei peggiori nemici di chi performa, di chi comunque nel mio caso vende, ma comunque di chi cerca sempre di... è sempre sottoposto a dei risultati. Quindi i propri guadagni sono correlazionati a dei risultati, in poche parole a provvigioni, perché io di fatto adesso sono inquadrato come agente di commercio e quindi sono a provvigioni. Ho, sì, una base di fisso buona, costruita negli anni, però poi la maggior parte delle mie entrate sono su base provvigionale. Quindi è facile, purtroppo, per chi guadagna tanto, diciamo, adagiarsi. Quindi questo è il più grande nemico, il più grande nemico di chi fa il mio lavoro, ma anche di chi fa network marketing molto spesso e comunque, diciamo, il più grande nemico non del dipendente ordinario, del dipendente classico, è sicuramente avere la pancia piena. Bene, arrivato a un certo punto, cioè nel senso quest'anno, non ultimo gennaio, quindi gennaio 2020, confermo un ulteriore record di vendita in Italia, veramente incredibile a livello proprio di numerico, credo che non ci sia nessuno, ma non solo della mia azienda, ma anche di tutte le altre aziende che fanno parte della fascia in cui operiamo. Arrivo e sto bene, sto alla grande, le cose sembrano andare alla grande, tutto sembra andare per il meglio. Arriva il lockdown, arriva il lockdown e mi chiama il capo area e mi dice guarda, durante queste settimane di lockdown, mi dice guarda, sì, noi andiamo bene, sì, noi siamo in salute, ma siamo una realtà ancora piccola. Quindi Francesco bisogna, nelle settimane successive, convertirsi alla vendita, la promozione di nuovi dispositivi a protezione, quindi mascherine, vetri in plexigas, gel igienizzanti, tutta una serie di cose a cui io non ero assolutamente fino a ieri pronto e preparato. Quindi canali che non conoscevo, canali distributivi che non conoscevo, prezzi, listini prezzi, prezzi concorrenti, prezzi aziende, non conoscevo niente di tutto ciò. Mi hanno fatto capire, in maniera molto molto elegante, che anch'io, che da sempre ero considerato un numero uno, un intoccabile nella mia azienda, da marzo 2020 sarei stato sulla graticola, sulla cosiddetta graticola. Io non so se te che stai guardando questo video hai mai provato certe sensazioni, o comunque, diciamo, perché è facile, ripeto, è facile non stupirsi, non rimanerci male, non accorgerti dall'oggi al domani che tutto quello che avevi costruito rischia di sgretolarsi se sei un mediocre. Quindi se sei un mediocre, ripeto, che, voglio dire, fluttua su 1.500, 2.000 euro al mese, senza mai essere, diciamo, salito ai piani alti, ai vertici, ai quadri di un'azienda, essere veramente stato coinvolto anche emotivamente, perché comunque mantenere dei risultati non è semplice. Cioè, il problema di molti è che non riescono ad avere la costanza nei risultati nel tempo, perché, ripeto, faccio il mio esempio, ma poi sicuramente altri lavori, altri centri di commercio, altri settori hanno le loro regole, però non è semplice fare X.000 vendite tutti i mesi anche nel mio settore, non è semplice, perché io vedo gli altri che quando una persona arriva a un tetto più che soddisfacente, esempio, 4-5.000 euro al mese, la gente ti lascia il freno a mano, smette di lavorare, smette di creare rapporti nuovi, quello è il problema, quindi essere sempre con la mente pronta, il mindset giusto, GPS acceso, come dico io, sempre pronto a nuove opportunità. Questo è quello che manca al 95% dei miei colleghi, e penso, presumo, anche ad altri che vendono, che negoziano, che veicolano prodotti, che promuovono un qualcosa. Il problema è sempre questo, che per fare, per lavorare su provisioni, io sono un fautore delle provisioni, perché la provisione, il sistema provvisionale come sistema retributivo, è il più meritocratico di tutti. Quindi ragazzi, io se mi dicessero, guarda, ti si mette dipendente, anche 1.000 euro di più al mese, io non vorrei mai essere dipendente, mai, mai, perché tutte le mattine esco al lavoro per creare qualcosa in più, non per fare il mio compitino. Quindi se hai questo tipo di mindset, non puoi accontentarti di un posto fisso. E ripeto, perché parlo di un settore che conosco, le provisioni sono un sistema giustissimo di valorizzazione del tuo collaboratore, del tuo dipendente, o comunque della persona che lavora per te e con te. Quindi, ricapitoliamo, perché questo è un video che potrei veramente far diventare lunghissimo, perché vorrei portarti la mia esperienza e farti capire che quello che sta succedendo a me, se sta succedendo a uno come me, immagino quello che potrà accadere a uno che è un mediocre a livello di risultati. Quindi, da marzo mi ritrovo a dover capire tutto, a ricapire tutta una serie di cose, perché mi fanno intendere in maniera, ripeto, molto elegante, che anche tutti i miei benefit sono a rischio, sono sulla graticola anch'io, devo tornare a spalare fango, devo tornare all'inizio, devo tornare a rilanciarmi completamente, convertirmi e cambiare, perché altrimenti non mi sarebbero stati più garantiti determinati compensi. Mi hanno fatto anche firmare un foglio dove comunque rinunciavo in base a tutta una serie di parametri che non, in caso non li avessi mantenuti rispetto all'anno prima, avrei rinunciato anche a una percentuale importante del mio fisso e quindi, diciamo, è stata una doccia fredda. È stata una doccia fredda perché, insomma, ripeto, soprattutto a livello di testa, non a livello economico, perché poi a livello economico, insomma, io ho diversificato, grazie a Dio, in questi anni le mie entrate, ma a livello di testa, a livello di testa è stata sicuramente una doccia fredda. Bene, come mi sono comportato? Spero che tu possa trarre beneficio da questa esperienza. Come mi sono comportato? A parte i primi 3-4 giorni, quindi da metà marzo, i primi di marzo, perché, insomma, il sentore che le cose non stavano più andando bene per la mia azienda, perché, ripeto, sì, è un'azienda in salute, ma è un'azienda piccola ancora, piccola su scala nazionale, e quindi, bene o male, tutte le settimane mi confrontavo con i miei colleghi, con il mio capoare, quindi per capire di che morte si doveva morire, si dice dalle mie parti. A parte la prima settimana di sconforto in cui assolutamente non ho azzeccato né una vendita, né un rapporto, né niente, al telefono molto, capire come vendere tutta questa roba, perché, ripeto, ogni crisi ha delle opportunità. Ti sarai accorto, ti sarai accorgendo che in Italia il business dei dispositivi medici, mascherine protettive, insomma, è una bolla speculativa che è a carico dell'utente finale, del commerciante, perché alla fine il sistema vuole questo, la mia buona entrare sul discorso Covid, però le mascherine servono, questo è fuori da ogni dubbio. I gel igienizzanti possono servire più o meno le tute, un TNT, cioè tutti i dispositivi a protezione delle persone possono, possiamo vederli come strettamente necessari o meno necessari, sta di fatto che vanno presi, vanno comprati, quindi è un costo in più per il commerciante, ma su questo voglio fare un ulteriore video dedicato. Io opero in un settore che ha avuto una grossissima flessione, perché per come è il mio lavoro, se l'utente finale, se il paziente non va in farmacia ad acquistare il prodotto, difficilmente io posso guadagnare, e quindi con tutta una serie di difficoltà di accesso in ambulatorio, in ospedale e in farmacia, quindi le persone si rivolgevano in farmacia esclusivamente per lo stretto necessario, strettissimo necessario, tutta una serie di cose, di indotto, di prodotti, che, diciamo, vanno a abbracciare tutta una serie di problematiche meno importanti, vanno a sparire. Quindi è un fatturato che completamente sparisce, scompare, che completamente scompare. Per cui, rilanciarsi, capire, ho avuto un po' di difficoltà, però ecco, sono sempre stato sicuro, come ero sicuro prima, di riuscire, ovviamente, nell'intento, ma avevo una tranquillità, cioè quella tranquillità mentale che ti dice bene, Francesco, lo sapevi già, in fin dei conti, dentro di te, l'hai sempre saputo che il tuo lavoro non poteva andare per sempre bene, che non sarebbe stato sempre così, che non sarebbe stato tutto facile, quindi che non potevi campare di rendita per 10-20 anni. Lo sapevi, l'hai sempre saputo. Perché? Perché da anni, grazie magari a percorsi di crescita personali relativi al network, perché fondamentalmente chi fa network marketing poi ha l'obbligo, si auto-obbliga, nel momento che entri nell'industria del network, ad auto-elevarti, a crescere. Se vuoi guadagnare nel network, devi ovviamente aumentare il tuo spessore, in forma di conoscitivo, tutta una serie di cose. Quindi ero già pronto, il mio mindset era già pronto rispetto ad altri miei colleghi. Perché? Perché mi ero creato tanto valore in questi anni da percorsi alternativi. perché io, che sono più di 4 anni a questo punto, che sono circa 4 anni che faccio network, cazzo, di roba ne ho immagazzinata, di informazioni ne ho immagazzinate in questi anni. Cioè, mi sono fatto un gran culo, di corsi di formazione me ne sono fatti, cioè, di roba sul mindset me ne sono fatta. E quindi sono pronto a tutto. Quindi ti voglio dare il primo segreto di questo video, essere pronti a tutto, cioè, crearsi una corazza, una campana di vetro, tramite tutta una serie di informazioni che vai a cercarti te. Quindi che vai a cercarti te autonomamente, a pagamento, pagandole, cercandole, trovandole, che ti servono per poi parare qualsiasi colpo. Quindi a parte i primi 3-4 giorni in cui mi sono trovato di sconforto e impreparato, il resto, sono andato dritto come un treno, sicuro. Perché io, sin dal primo giorno che sposai il progetto, il mondo, l'industria del network marketing, l'ho sempre saputo che il tesoretto che avevo tra le mani, sì, mi permetteva di fare una vita agiata, ma ci sarebbe stato prima o poi qualcuno o qualcosa, io dico sempre, prima o poi sarebbe arrivato quello che si sarebbe svegliato, più giovane di me, più bello di me, più bravo di me, più loquace di me, più venditore di me. C'è sempre la persona meglio di te. Per cui se io magari a 35 anni raggiungevo il tetto massimo delle mie performance, poi probabilmente, non so, a 40-45 avrei avuto meno voglia di lavorare, avrei avuto più impegni familiari, quindi è chiaro che poi avrei mostrato il fianco a concorrenti che mi avrebbero fatto il culo. Questo lo sapevo, che poi si chiama Covid, lockdown, oppure si chiama Marco Rossi che lavora per l'azienda concorrente e mi spacca il culo. Cambia poco. Per cui dal primo giorno che mi sono messo a fare network marketing, lo facevo per questo. Quindi io sono tre anni e mezzo, quattro anni che io mi preparavo al giorno X, al giorno in cui sarebbe arrivata un grande problema o una disfatta per il mio mercato. Ero pronto. Quindi facendo appello a questo mindset, a questo insieme di valori che avevo costruito all'interno di me, sono andato dritto come un treno. Ripeto, quindi stai sempre pronto. Prima, cioè secondo segreto, stai sempre pronto. Preparati, preparati e stai pronto. Preparati e stai pronto. Oggi si chiama Covid, che magari offre nuove opportunità, perché ripeto, negli ultimi settimane, poi mi sono convertito alla vendita, alla diciamo, promozione, tutta una serie di dispositivi, che la mia azienda, convertendosi a sua volta, mi ha messo a disposizione, e quindi ora magari non vado più dal medico, dallo specialista in ospedale, dal primario di cardiologia, magari ora chiamo il ristorante o la catena di parrucchieri, per promuovere i geli igienizzanti. Non cambia niente. Devo anche in questo caso acquisire nuove skills, nuove informazioni, capire chi sono i concorrenti, ma non cambia niente. Ci sono persone, colleghi miei di altre aziende, che con lockdown chiudono la sera cinesca. Hanno finito, game over. E' gente che deve andare a fare il giardiniere, gente che deve diventare cameriere, gente che deve cambiare la propria vita. Perché in questo lasso di tempo, in questi 60 giorni, sia l'azienda per la quale lavoravano, sia loro sono stati fermi, sono stati a sedere sul divano, a guardare Netflix, a fare tutte queste cazzate qui. In questi 60 giorni, sia privatamente appunto col mio lavoro, mi sono convertito, ho capito e sono partito, e sto già ottenendo dei grandi risultati, e penso che questa situazione a fine lockdown, nell'estate, settembre, autunno, andrò ad addizionare, quindi a fare un più su quello che facevo prima, quindi sul fatturato di prima, mettendoci anche un nuovo fatturato di adesso. Quindi andrò a fare ancora meglio di prima. Perché c'è una grande, una crisi nasconde sempre una grande opportunità, ma devi stare sveglio. Altri complete ornei chiudono, te lo ripeto. E poi in questi 60 giorni, oltre a capire, quindi a lavorare sulla mia azienda tradizionale, quindi il mio lavoro tradizionale, abbiamo lanciato Ritorno al Futuro, abbiamo lanciato una nuova collaborazione e la fusione con Domination Group, ho capito, ho capito altre cose, ho saputo altre cose, ho letto altre cose, siamo prontissimi. Questo deve essere il tuo atteggiamento, deve essere il tuo atteggiamento. Terzo punto, ti ripeto, stai pronto ad essere sulla graticola. Cioè, la graticola, ragazzi, ci siamo tutti, tutti siamo in discussione. Io pensavo di essere un immortale nella mia azienda, un immortale, una persona che non poteva essere mai discussa, potevo sbagliare, potevo fare il cazzo che mi pare che tanto qualche direttore, qualche capoare, mi avrebbe sempre perdonato. Perché io ero la figura di riferimento a livello nazionale. Come dico sempre, gli ho, gli ho, ora, da solo no, perché non mi posso prendere esclusivamente i meriti miei, ma gli ho costruito un'azienda, assieme ad altri pochi, pochi eletti, pochi eroi, come dico sempre, abbiamo costruito un'azienda a livello nazionale. E questo loro se lo ricorderanno sempre. Quindi è chiaro che io avrò un trattamento riservato, cioè, un diverso trattamento rispetto ad altri. Ma, ma, cioè, questo era quello che pensavo, e invece, signori, devi sempre sentire, sul graticola. Cioè, quell'umiltà, quella sana umiltà che ti svuota la pancia quando pensi di averla piena, la devi avere. La devi avere. È una vita, è una sfida continua la vita. per cui, la differenza tra un lavoro che ti può anche andare alla stragrande, ok, e poi un'azienda di network. Perché il network è così importante? Perché lo voglio inserire in questo video? Perché alla fine io non sono caduto e sono rimasto in piedi a livello lavorativo? Perché, come ti ho già detto, fare network mi ha portato a crescere tantissimo rispetto a quello che ero e soprattutto ora sono tranquillo anche dal punto di vista economico. Cioè, a me la vita, se domattina la mia azienda chiude, cambia, all'inizio cambia, non voglio assolutamente, sembra, cioè, non voglio dire una cosa per un'altra. Cambierebbe, ma sarei già pronto. Cioè, sarebbe come un tagliare i ponti, un bruciare le navi. Ok, si cambia, si volta pagina, capitolo nuovo, tutto sul network. Oppure, sul network è un'altra cosa. Perché ormai sono diventato una figura dinamica. Che è, diciamo, la conseguenza positiva di quello che ti porta al network marketing. E poi, in ultimo, ripeto, sei un numero, ricordatelo sempre, sei un numero. Puoi essere anche Cristiano Ronaldo, ma poi la Juve ti manda via. Appena diventi vecchio, la Juve ti manda via. Puoi chiamarti Francesco Dotti, Alessandro Del Piero, Paolo Maldini, rimanendo, insomma, in un argomento da cui tengo tanto come quello del calcio. Ma poi arriva un giorno che sei un numero, vai a casa. Il network, invece, si basa su concetti differenti. Il network è una tua azienda, è il tuo codice. Si collabori per quella tale azienda. Ma una volta che tu ti sei trovato una collaborazione con un'azienda solida, solida, quindi non che è nata tre anni fa, solida, un'azienda decennale. Poi noi abbiamo diversi video, vatteli a rivedere, sui quali parliamo, cioè analizziamo i parametri per cui scegliersi un'azienda rispetto ad un'altra. Ma quando ti lavori per un'azienda solida, un'azienda che ha già superato tutta una serie di problematiche a livello nazionale, burocratiche, legislative, quindi un'azienda che continuerà a lavorare nei prossimi anni in maniera completamente e totalmente tranquilla, il tuo codice è la tua azienda. Nessuno ti potrà mai chiamare dicendo ragazzo, ciao, sei vecchio, sei passato, ciao, o altrimenti chiudiamo, o altrimenti, guarda, è arrivato il lockdown, non si vende più. Assolutamente. Non ti può accadere tutto ciò. Quindi, quando ti impossessi di un codice, del tuo codice della tua azienda di network, diventi un imprenditore a 360 gradi. Nessuno ti può licenziare, questo è importante, è fondamentale. Quindi in questo periodo, e voglio concludere il video, colli, spero che questa esperienza ti sia servita per capire che anche chi ha i vertici deve mantenere l'umiltà, deve mantenere comunque la voglia di sfida, la voglia di adattarsi, e deve mantenere, diciamo, un profilo non basso, ma comunque sempre atto a, eventualmente, essere pronto a fare uno switch. Questo è importante. Questo è importante. E se il mio lavoro, il mio lavoro, è messo a repentaglio, comunque, diciamo, dovrà cambiare sostanzialmente sostanzialmente per non avere un decremento, mi immagino, ragazzi, chi cazzo, cioè, mi immagino chi fa il pizzaiolo, chi ha un negozio di vestitini per bambini, o chi ha, voglio dire, un negozio di ferramenta. Cioè, ragazzi, apri, occhi aperti, occhi aperti, occhi aperti, diversificate le vostre entrate, diversifica le tue entrate. Non vuoi fare network, intanto, se non vuoi fare network, non guardare più Skyline Team, ma a prescindere, cioè, a prescindere da, da questo discorso, cioè, fai trading, fai il cazzo che ti pare, il cazzo che ti pare, ma diversifica, diversifica. Rimanendo su Skyline Team, se tu non l'avessi ancora fatto, clicca sulla campanellina, rimane aggiornato, tanti video, quindi, insomma, è un canale veramente in forte ascesa, il nostro, e soprattutto, per capire meglio, se tu ancora non l'avessi fatto, se tu non l'avessi vista, la nostra Masterclass, clicca sotto, se lo guardi su YouTube, sopra su Facebook, e vatti a vedere la Masterclass. Eventualmente, se tu fossi incline, in target, soprattutto con la nostra visione, il nostro modo di lavorare, andiamo in una call, entreremo in una call, eventualmente ci mandare la candidatura, la valuteremo, e ci conosceremo di persona. Ciao, e al prossimo video, mi raccomando, stay tuned, resta sveglio, resta sveglio, resta pronto, e guardati sempre intorno. Ciao!